Adesso è il momento di capire quello che pensate voi. Lo strumento, come molti sanno già, è quello dell'InstantPol, cioè un sondaggio veloce, assolutamente anonimo, a cui si può partecipare con lo smartphone, inquadrando il QR code che vedete nelle schede. Quindi adesso io leggerò le domande, i quesiti, voi inquadrate il QR code, rispondete ai quesiti e vedremo subito dopo il risultato. Vi prego di partecipare perché è molto importante sapere quello che pensate voi, non soltanto chi viene a fare il relatore qua. Ok? Possiamo partire con le slide? Ecco, questo è il QR code che avete visto. Ah, va bene. Andiamo avanti con la prima. Ok. Quali sono gli obiettivi che vi ponete? Naturalmente, come dire, possono essere di diversa natura, come vedete dalle domande, avete diverse opzioni. una riguarda semplicemente il mantenimento del fatturato e un'altra invece quella della strategia, che può essere, come si parlava oggi nel talk, che ha preceduto questo, che ha aperto praticamente questo convegno, con un sistema, con un processo di aggregazione. leggete e votate. Andiamo sulla seconda. Oh, questo è un altro focus su cui, come dire, il convegno Utrade batte molto ed è assolutamente centrale per la vita di tutte le imprese e in particolare anche quelle della distribuzione dell'edilizia che, ai noi, diciamo, adesso un po' meno, ma negli anni scorsi erano rimaste un po', come dire, indietro rispetto all'intero sistema Italia. pensate alla digitalizzazione, alla tecnologia, a investire come, dove, quando e in che cosa. Votate. Possiamo passare con la seconda. Ho un altro focus che affronteremo tra qualche minuto. in un intervento del professor Bubbio riguarda quello della strategia, diciamo, un po' più a lungo termine, tra cui, proprio, una, come dire, la pianificazione o la gestione di un eventuale ricambio generazionale. Ci avete pensato, non ci avete mai pensato, ci penserete? Qual è la vostra opinione? Votate, votate, votate. Infine, diamo uno sguardo all'anno prossimo e tra queste opzioni cercate di scegliere quella che vi sembra più plausibile, anche se, come dire, è molto difficile fare delle previsioni così in astratto, ma il sentiment vostro, qual è? Votate. Bene. Ci siamo? Possiamo vedere già i risultati? Allora, io qui mi devo girare perché sennò non li vedo. Mi sembra che siano abbastanza chiari. La grande, come dire, la maggioranza di voi pensa che sia importante migliorare la redditività, che sia quello. però vedo che anche, come dire, altre due opzioni, quelle di introdurre nuove attività, sono altrettanto, come dire, opzioni plausibili, mentre non perdere il fatturato interessa poco. Bene. Vediamo il secondo risultato. la digitalizzazione. E questo poi è materia del professor Noci che commenterà meglio questi risultati. Però, ridifinire i processi, vedo che l'intelligenza artificiale interessa più o meno a nessuno. Non so se questo è lungimirante, però questo ce lo dirà il professor Noci. Veniamo alla terza. Oh, futuro della... Passaggio generazionale già previsto, passaggio generazionale, mi sembra che, come dire, sia un po' diviso, sia un po' incerto questa, ecco, la visione su questo. Perché sì, se la maggioranza relativa dice che è già stato previsto e il 26% già compiuto, direi che sì, oltre la metà ha già le idee chiare e ha già provveduto, ma un po' meno della metà no. Vediamo l'ultimo. Ho le previsioni per il 2025. Anno di transizione... Bah, insomma, non sembra neanche così negative, insomma, diciamo, un po' caute. Le definirei previsioni abbastanza caute. Ora e a tutti noi ci sono Le partenbo e come… vedo il prossimo anno. Grazie a tutti. Iscriviti al Perché. la copra che In un Penny last costНА Per uno, è than зак님 ilmatore. È così grreensivo. Saga in Pilda.